L'annuncio della stipula di un accordo vincolante per il quale il 100% delle quote di Alfoundry viene venduto a Yangtzu Technology, gruppo cinese che opera nel settore dell'i-tech e che ha come business principale la ricerca, il design e lo sviluppo di nuovi chip in ambito power, è di qualche giorno fa. Oggi dunque è soltanto l'inizio di un delicato percorso, verso quella che il vicepresidente di Alfoundry, Sergio Galbiati, ha definito una nuova era per una delle più grandi e importanti aziende d'Abruzzo. Alfoundry, specializzata nella produzione di semiconduttori circuiti integrati, si trova così ad affrontare una nuova fase di cambiamenti che coinvolge in un grande sforzo collettivo tutti i suoi circa 1.500 dipendenti da dicembre in contratto di solidarietà. L'accordo prevede il mantenimento dell'attuale livello occupazionale, ma i dettagli di un futuro matrimonio tra Alfoundry e la cinese Yangtzu dovranno essere costruiti nei prossimi mesi, come spiega il vicepresidente delle risorse umane di Alfoundry, Fabrizio Famà, che questa mattina ha partecipato con i sindacati a un tavolo di confronto nella sede aquilana di Confindustria. Si sta discutendo del futuro di Alfoundry, che cosa aspettarci? Avevamo condiviso nei mesi scorsi che si stavano cercando degli investitori che vedessero nello stabilimento un importante asset per seguire la loro strategia. Di fatto abbiamo avuto varie proposte e in questi giorni è stato comunicato da SMIC, che è il gruppo che ci controlla, che appunto è stato trovato un potenziale acquirente con il quale si andranno a definire nei prossimi mesi tutti i termini e che propone un progetto che in prospettiva è molto interessante, motivo per cui posso dire che ci ritorniamo ad oggi soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Ed è molto interessante anche da un punto di vista diciamo occupazionale perché una delle cose che abbiamo chiarito fin da subito è che con questa nuova potenzialità non dovrebbero esserci problemi di tipo occupazionale. Questo è sicuramente la preoccupazione principale ma non solo anche perché la tenuta sul piano occupazionale dipende anche dal contenuto tecnologico che il nuovo acquirente riuscirà ad esprimere e che possa essere all'altezza delle tecnologie che il sito di Avezzano è in grado di esprimere.